Il Tempio di Atena Nike fu votato nel 448 a.C. e quindi non rientrava nel progetto pericleo. I frontoni mostrano battaglie con i giganti e con le amazzoni, mentre sui fregi laterali sono rappresentate battaglie fra greci e persiani. È un monumento allo scontro vittorioso che ben si presta a introdurci all'arte della guerra. Grazie